Il mistero Zavettieri ha archiviato questa vittoria suonatissima con il Messina che permette ancora di sperare una salvezza diretta, adesso si va a Ischia, in questo derby dell'amicizia. Le condizioni della squadra, come è stata una cosa che ci interessa? Sì, affrontiamo questa partita di Ischia, una partita fondamentale per noi, quindi mi aspetto una grande partita da parte nostra. Diciamo che non saranno delle partite più scolificate più di Zillo, che si è fatto male contro Messina, gli altri sono convocati, però dovrò valutare bene la condizione fisica di 3 o 4 giocatori, quindi mi riservo fino all'ultimo 10 della formazione, in virtù del fatto che è una partita di cui non mi fido assolutamente e pertanto voglio mettere dentro i giocatori che mi danno più garanzia dal punto di vista psicofisico. Ecco, con la retrocessione ufficiale dell'Europa Castelli Romani, l'Ischia non corre, l'Ischia non corre, l'Ischia non corre, l'Ischia non corre. L'Ischia non c'è direttamente, deve decidere un po' solo l'avversario magari da beccare nei play-out, soprattutto cercare di migliorare la massifica, come diceva lei, però ancora con il Messina si parlava di un Messina non è mai salvo e poi abbiamo visto tutti che cosa hanno fatto in campo. Io ho il massimo rispetto per Pischia, non mi fido assolutamente, mi fido dei ragazzi, logicamente perché siamo con Sabello, dobbiamo fare una partita importante domani per cercare di vincere. Parliamo di una squadra che sia una classifica deficitale, però a qualità, una squadra che nelle ultime partite ha messo in difficoltà tutte, una squadra che può battere tutte, è chiaro che dovremo essere bravi a limitare le loro potenzialità e di contrapasso cercare di sfruttare le nostre. Ecco, il Monopoli e il Catania hanno dimostrato nell'ultimo turno di essere ancora vive, di non mollare anche loro questa possibilità di evitare il play-out. Invece la Juve Stabia, in questo momento, dopo la vittoria con Messina, è carica a mille perché il morale è quello che è. Da questa gara ci si può accontentare o bisogna sempre giocare, magari per ottenere il massimo, pur rischiando? Ma io ho sempre detto che il destino è nelle nostre mani. Noi dobbiamo cercare di arrivare alle ultime due partite nella miglior posizione possibile. Abbiamo queste due partite con l'isca e la Lupa Castelli, che solo sulla carta possono sembrare abbordabili, ma io non mi fido assolutamente. Abbiamo visto i risultati anche delle settimane scorse, non ultima anche la vittoria del Catania all'ultimo contro la Lupa Castelli, quindi non mi fido assolutamente. È chiaro che noi dobbiamo cercare di ottenere il massimo da queste due partite. Poi tireremo le somme, però adesso voglio solo concentrarmi sulla partita di domani perché è la più importante in assoluto. Quindi mi aspetto a una Juve Stabia determinata, umile, rispettosa dell'ischia, ma con la volontà di prendere i tre punti. Ecco, la Juve Stabia sta pensando anche un po' al futuro, il futuro che resta incerto per le condizioni dello Stato, non permetterà l'anno prossimo di disputare le partite nei momenti. Quindi, ecco, ma il mister Zavettini è conceduto sul campionato o pensa anche lo al futuro? No, no, io penso solo all'ischia, nel modo più assoluto. Non vado oltre la partita di domani. Quello che posso dire è che sicuramente credo che la nota della società sia assolutamente legittima. Parlo da, come dire, da allenatore, nel senso che per poter programmare dei cicli sicuramente le strutture sono fondamentali. Ed oggettivamente in questo momento lavorare a Castellammare non è facile da questo punto di vista. Quindi io auspico che questo problema venga risolto perché la storia di questa società ha bisogno, come dire, di essere, passatemi il termine, sfogata in una bella struttura di gioco per la gioia dei tifosi e degli appassionati e anche per, credo, la volontà di una persona come il Presidente che investe tanto in un calcio difficile. Quindi sarebbe una soddisfazione anche per lui poter costruire qualcosa che possa durare a lungo per la città di Castellammare e soprattutto per i tifosi di Castellammare. Ecco, parlando proprio dei tifosi, si parla del tempo della CINSE, perché l'anno scorso c'è stato questo scambio di doni, di regali, comunque un'accoglienza da ambo le parti in maniera positiva. La società Ischia si è messa a disposizione anche emanando i biglietti a prezzo ridotto. Potrebbe accadere addirittura che siano maggiori i tifosi della Juve Stabia che quelli dell'Ischia? Questo potrebbe essere un fattore in più che potrebbe aiutare la Juve Stabia? Assolutamente sì. L'ho sempre detto che per una squadra come la nostra e per il calore che i tifosi della Juve Stabia sanno dare, questo conubio diventa fondamentale. Quindi mi auguro che veramente domani siano in tante Ischia perché loro sono una spinta in più per tutti noi per arrivare prima possibile all'obiettivo della salvezza. Ecco, è un Ischia che bisogna vendicare anche un po' il pareggio 5-5 che poi ha creato dei problemi. Prima di quella gara ha tolto un po' convinzione ai mezzi dei calciatori che si pensava un cambiamento diverso, poi da quel momento invece non si è capito più nulla. Forse è eccessivo dire non si è capito più nulla, però sicuramente ha lasciato qualcosa. Purtroppo è stata una partita veramente incredibile. Succede nel calcio, non dovrebbe succedere, però è successo. Mi auguro che serve la lezione, non tanto il discorso di risultato quanto come maturato da un punto di vista di contrapposizione in campo e pertanto dobbiamo essere bravi e non ripetere quegli errori. Ecco, l'Ischia è cambiata soprattutto in tanti uomini. A Gennaro c'è stata una rivoluzione che ha tolto qualità tecnica, anche se ci sono giocatori di esperienza ancora a Ischia che possono fare la differenza. Con il modo di giocare, ma deve stare a via in un grande modo, perché sappiamo che a lei non piace, piacciono i numeri, ma è un atteggiamento. Che cosa bisognerà fare? Attendere l'Ischia o comunque far capire subito la forza dell'adversario? No, noi dovremmo fare una partita molto intelligente. Come ho detto prima, dobbiamo essere molto umili in campo, avere massimo rispetto dell'Ischia, perché come ho detto prima è una squadra che può mettere in difficoltà chiunque, stare molto attenti, accorti e poi magari sviluppare quelle potenzialità che sono nelle corde dei nostri giocatori. Abbiamo la possibilità, a parte diciamo al centrocampo dove siamo un po' più risicati, di poter spaziare sia dietro che davanti. Pertanto mi aspetto che i 14 che scenderanno in campo approcciano bene, leggano bene e soprattutto interpretano bene una partita che per noi divita l'importanza.